eccoci qua buongiorno piacere giuseppe alessandro benvenuto la gt experience e benvenuto all'autodromo le colline allora 458 italia io ti faccio da navigatore l'unica cosa più importante mai mai affondare di colpo il gas perché molto pericoloso cioè vuol dire ruote dritte progressivamente voler leggermente si va giù col base poi ti dirò tutto io guarderò io gli specchietti tu devi guardare solo davanti farò da navigatore però tutto col piede destro adesso si frena si accelera con la destra schiacciando andiamo su vuol dire aumentiamo le marce con la sinistra diminuiamo se ti dico di cambiare cambi se ti dico di scalare scali se non ti dico niente non fai niente siamo pronti allora giù freno andiamo in prima molle il freno piano 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 sia in ingresso che in uscita molto piano allora vediamo un po si fermiamo più amanti qua lo stop perché sta arrivando una macchina di un freno ferma adesso piano piano andiamo centro la sensibilità della frenata che ha inizia a andare a destra siamo destra a sinistra guarda sempre il primo pirillo largo andiamo sul secondo pirillo e poi leggermente iniziamo a e poi la sensibilità della frenata che ha inizielle in una sensibilità di traccia di spostanze a destra tutto destra non guardare gli strisci neri del destra quelle sono altre cose scelto e andiamo a destra cambia cambia e poi ci spostiamo a destra questa è quella più stretta guarda il primo inizia a girare a centro e andiamo a destra un po' di freno inizia ad anticipare la destra e andiamo a sinistra un po' di freno centro curva a destra taglia senza andare sul cordo andiamo a destra inizia ad andare un po' di freno inizia ad andare un po' di freno inizia ad andare un po' di freno senza accelerare adesso un po' di gas andiamo a destra inizia ad andare un po' di freno e vai sul secondo anticipato un po' e poi ti porta fuori dall'altra parte ci sta andiamo il primo centro curva destra cambia cambia e andiamo a destra e andiamo a destra e andiamo a destra Iniziamo alla destra, iniziamo alla destra, così, e verso la destra. Oprimiamo, punto destra, dai e via la destra. Adesso a destra, non al prima, a sinistra. Sempre un po' prima. Prosto. Ok, destra. Perché prima l'è anticipata. Iniziamo alla destra. Iniziamo alla destra. Vedi? Eh, non ci vuole un'apertura, no? Sempre largo. Alla destra. Ok, adesso rallentiamo. Piano piano ci spostiamo a sinistra che dobbiamo uscire. Qui molto, molto piano. Dietro lì, dietro lì. Ora dobbiamo entrare proprio piano, 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 piano. Freno. Poi gioco il freno. Così. In questa natura qua, piano piano. Andiamo a finire. Piano piano. Adesso qua, dobbiamo fare tutto destra. Destra da me. Gira. Siamo dritti. Questa. E' un po' più. 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 Piano piano. Da questa parte molto, molto, molto piano. Perché altrimenti c'è gente che cammina a piedi. Non si può mai sapere qualche bambino. Piano piano. Piano piano. Piano piano. Piano piano. Piano piano avanti. Vai dritto. Ok. Giù freno. Tieni giù freno. E tutte e due le palette verso di te. E' nenne? Si. Ok. Allora, io spero che ti sei divertito. Spero che ti aspetto alla prossima con 10G. Certo. Ciao, grazie. Grazie, ciao.